Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video Oggi vorrei sponsorizzare un mio amico che ha appena iniziato a fare video su youtube E vorrei tipo aiutarlo quindi iscrivete al suo canale che adesso vi farò vedere e attivate la campanellina Allora ragazzi questo è il suo canale e per ora ho fatto solo un video e ha 5 iscritti ed è veramente bravo Quindi ragazzi iscrivetevi al suo canale e attivate la campanellina e lasciando like a tutti i suoi video Per favore Perché secondo me diventerà veramente bravo Grazie per aver visto questo video molto piccolo ma volevo solo sponsorizzarlo e aiutarlo a crescere E tipo condividendo il suo canale con tutti i vostri amici Grazie